I volti dei bambini dell'Uganda, ritratti in contesti e in momenti diversi, ma sempre pronti a comunicare intense emozioni, sono stati i protagonisti indiscussi del convegno Africa Nera, organizzato dal professore Lorenzo Pio Massimo Martino, martedì 24 novembre presso il liceo scientifico Raffaele Piria di Rosarno. Il professore Giuseppe Cassalia, in veste di fotografo freelance, ha infatti presentato in questa circostanza una raccolta di istantanee, sempre fedeli alla realtà negra più vera ed intensa, fatta di povertà, mancanza d'acqua e di cibo, di donne che diventano già madri a 15 anni, di uomini che per lavoro spaccano le pietre. L'emozione, suscitata da questo reportage fotografico del professore Cassalia, ha subito contagiato una platea di alunni straordinariamente coinvolti, molti dei quali avevano prodotto interessanti lavori di ricerca sulla cultura africana, magistralmente coordinati dalla professoressa Concetta Pollidori. Il dirigente scolastico Maria Rosaria Russo, sempre vicina alle tematiche di forte rilevanza sociale, ha invece ricordato come da tempo ormai il liceo si è impegnato in proficua attività di aiuto e sostegno alle comunità africane. Anche il paese di Rosarno, nel quale si trova l'istituto, è stato direttamente a contatto con i migrati africani, autori l'anno scorso di una rivolta per la difesa dei loro fondamentali diritti. Gli allievi hanno voluto commentare questo episodio, dimostrando una sincera ambizione al superamento dell'equivoca mentalità razzista. La discussione, così intensa e vivace, si è poi arricchita di ulteriori contributi offerti dalla professoressa Ivana Malara, che è relazionato su due scrittrici africane, Nadine Gordimer e Doris Lessing, entrambe premio Nobel per la letteratura, come evidenziato da una serie di video e diapositive, e se rappresentano il riscatto di una civiltà che deve ancora lottare per il diritto alla formazione e alla cultura. In chiusura, il professore Lorenzo Pio Massimo Martino, moderatore del convegno, ha infine evidenziato con un'intensa ricostruzione video il ruolo che due grandi cantanti, Bob Marley e Michael Jackson, hanno avuto nel difendere la dignità e l'integrità della civiltà negra, con la loro intensa opera musicale. Tutti i diversi volti del continente africano sono dunque emersi in virtù di un convegno fortemente voluto dal professore Martino e dalla dirigente Maria Rosaria Russo, soddisfatta di questa emozionante occasione di confronto e dibattito.